bella ragazzi sono kb goku e benvenuti alla clip of the week è una nuova rubrica diciamo che ho appena inventato iniziamo subito come vedete il primo è un colpo di reaper che finisce in headshot con una cosa un po particolare alla posizione numero 6 abbiamo una doppia e poi più avanti avremo adesso vado veloce un po una tripla intanto vi spiego che cos'è sono delle clip che ho raccolto con insomma in una settimana più o meno ma passiamo alla clip numero 5 un colpo di barrett poi tirerò una granata e poi vedrete e insomma la mia idea era di farle un po tutte le settimane magari anche con delle clip che mi mandate voi ma poi vedrete meglio in descrizione intanto questo qui cacop da paura no scherzo alla numero 4 abbiamo una tripla con un attimo di pausa seguita poi da un'altra tripla successiva sempre nella stessa partita ovviamente e come ho detto appunto vi metterò poi in descrizione tutte le informazioni per mandarmi le clip queste sono tutte mie ma più davanti insomma potrei mettere anche delle vostre clip se me le mandate insomma sarei molto molto felice di insomma di fare questa cosa insieme a voi ma gustatevi questa doppia iniziale con un'altra clip e poi becco il punto di respawn inizia a sparare bom 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 2 e 3 e tutti insieme poi insomma me ne vado perché erano un po troppi ecco vediamo al secondo posto cosa ho messo qui non c'è un'uccisione ma insomma è un adesso vedrete bom 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 40 di assist quadruplo assist ragazzi questa è tipo una quad feed di assist ma gustatevi la posizione numero uno questa cosa da kb go non la vedrete molto spesso ecco il primo scavalcola staccionata quickscope sul secondo sul terzo e bom via anche il quarto insomma questa era un po la prima settimana della della clip of the week insomma ecco qui e se avete altre informazioni chiedete e insomma mandatemi i vostri video ma leggete la descrizione per capire di cosa si tratta bella ragazzi